oh e la carica si alza e la carica si alza e si stanno per cambiare i primi pannolini si stanno per cambiare i primi pannolini ciò c'è un bel trucco se lo si perché raga appena passa il tempo e io ho sempre più paura della partita che si giocherà stasera mamma mia mamma mia si se non sapete che sta a fare si prima faccio il video sul napoli e poi dopo faccio anche i pronostici sperando che li faccio se non sono viva per esempio napoli più stagione questi giorni è stasi al sampario ovviamente non vado nello stato perché non ci sono mai dato nella vita mia che ho fatto nella partita importantissima che non manco nello stato della casertana casertana sta in serie di sì no non è così a casa vabbè comunque diciamo perché i convocati non li ho visti però sicuramente ci sarà gulamma meret non lo so però comunque penso già ho una minimità di quali potrebbero essere i titolari perché angelotti è vero prima della partita con l'empo le aveva detto che difficilmente avremmo indovinato di unici titolari ecco e ovviamente angelotti che cambia sempre il giocatore ogni partito ogni ruolo ogni possibile giocatore ovviamente potremmo vedere di tutto sarebbe di tutto oppure giunes con la gamba rotta in campo vabbè comunque ragazzi cosa mi aspetto io oppure cosa farei io chi metterlo in campo ospira in porta assolutamente è da champions e deve che cazzo è questo rumore ed è ovviamente ha più esperienza rispetto a carneti semeretta ancora rotta perché devo dire queste cose su ospira titolare con i palini e albiola assolutamente c'ho un dubbio se mettere maximovic isai o malquiver perché veramente non ho la palida idea anzi sapete che faccio sapete che faccio io metto maximovic terzino sinistro e sull'esterno mi metterei fabia ruizzo al posto di caglicone perché fabia ruizzo fa meglio esserno e poi visto che ci abbiamo un terzino difensivo che d'altro fa pure che ne so fa il terzo difensore centrale perché raga vedete le partite del dappoli contro il rivel pool e psg con maximovic terzino destro non avanza è un terzo centrale di difesa quindi ve lo dico io e quindi magari che cazzo ci serve un maximovic e un caglicone che anche lui è più difensivo che ha che attacca perché aiuta molto in difesa ovviamente mettiamo un po fabia ruizze perché potrebbe non lo so poi le tattiche di angelotti si sbaglia tutte perché ovviamente deve decidere lui perché lui è un genio potrebbe azzeccare tutto è uno dei migliori allenatori del mondo io non sono un cazzo sono un bambino un bimbo che faccio quel coglione a fare i video quindi non è che posso dire chissà che però diciamo sulla sinistra metterei mario lui ovviamente chi dobbiamo mettere gulam è disponibile però non rischierei c'è addirittura la prima dopo un lungo infortuno per gulam ma proprio una partita importantissima contro il psg assolutamente no io direi no grazie mario lui poi chi cazzo dobbiamo mettere poi luperto infortunato quindi per forza mario lui poi non lo so se ruperto vabbè comunque pure lupe cioè parlo di lupe non parlo di centrocampo amsic allan assolutamente amsic però una cosa su amsic devi vincere più contrasti devi vincere più contrasti perché nella propria partita quello che fa che ha dato il panino di ciò che al psg è stato amsic perché amsic non vince un contatto ha fatto una buona partita in fase di interdizione dorme dorme in mezzo al campo non vince un contrasto nei marse l'è saltato mille volte di mario non gli ho fatto vedere niente bapè che non c'entra un cazzo perché giocava sempre sulla destra non sa c'entrava come ne maricava e di maria cioè questo è il problema per me il centrocampo ha sempre il solito massino è lui che fa la dica in mezzo al capo amsic non tanto però che non so potrebbe dare qualche pallone per questo potrebbe essere importante però diciamo ci serve un altro alla non vente più scarsa di alla perché non ci possiamo permettere cioè vogliamo troppo vogliamo cantare alla però diciamo amsic ancelotti ti devi far capire che devi vincere più contrasti e devi recuperare palle in mezzo al campo che sarà importantissimo perché se lasci tu il pallino del gioco al psg non ne vediamo bene perché quando lasci il pallino al psg ti segnalo ogni occasione ti segnalo perché sono forti perché noi abbiamo segnato quando eravamo nel miglior momento di forma sempre 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 perché se perché noi non segniamo mai quando il psg attacca ve lo dico io quindi è meglio se vogliamo vincere questa partita è meglio che amsic si mette le cebra all'apposto si carica si dopa si trova ovviamente stiamo spacciando amsic per il peggiori calciatore del napoli di sempre assolutamente no che poi stasera raggiungerà anche un altro record personale per il napoli più di 510 presenze quindi grandissimo capitano però che ne so potrebbe essere la peccati stasera vorrei che mi smentisse vorrei che mi smentisse se poi sulla destra cioè sulla sinistra io sapete che vi dico io sulla sinistra metterei mertens perché mertens è più di insignia mertens magari come attaccante non potrebbe fare meglio cioè potrebbe fare meglio come prima punta però diciamo io lo vorrei mertens io lo vorrei mertens vorrei che giocassero due sia insignia che mertens che sono fortissimi e fondamentalissimi per il napoli che passano in un ottimo momento perché contro l'ampoli hanno fatto tutti grandi partite e poi pure miric che ne so potrebbe essere un cross in mezzo una cosa qualcosa e miric davvero attaccante potrebbe segnare un colpo di testa non lo so cosa quindi diciamo ci serve un tipo di attaccante e poi io farei giocare sia mertens che ti farei giocare tutti tre attaccanti in questo momento che abbiamo perché mertens lo mettiamo sulla sinistra che poi aiuta in difesa ogni pallone che fa l'abbiamo messo contro l'ampoli ovviamente l'ampoli non è paracolabile la presse g però ogni pallone che fa inventa fa cosa poi spero non lo spero che mi smentisca perché ovviamente non voglio che mertens faccia una partita di merda poi c'è da vedere c'è da vedere anche se molto molto difficilmente ancelotti non vedrà il mio video quindi non non mi ascolterà ovviamente che perché per me mertens non giocherà mai esterno quindi mi aspetto un mertens in signa davanti oppure un mertens un milic in signa perché io per me in signa giocherò per forza titolare perché c'è soltanto questo ballottaggio tra mertens e milic farò giocare tutti e due mertens e stendolo però diciamo che insieme può fare questa cosa quindi questa è la formazione che faccio pronostici sto cazzo perché io magari contro l'ampoli posso fare i pronostici ma però una partita così importante i pronostici non li faccio mai perché sapete io non sono scaramatico però veramente ci tengo a non gufare anche la mia squadra nel cuore perché sapete ho gufato mille volte la giu ho gufato mille volte l'ampolo ho gufato mille volte il chievo ho gufato mille volte tutte le squadre della sera e non vorrei che gufassi il napoli stasera per favore per favore quindi quello che mi sento di dire è che il napoli farà una buona prestazione perché per me lo farà perché quando il napoli metterà le palle farà una buona prestazione poi cosa mi aspetto d'ancelotti ancelotti quando vinciamo è sempre merito d'ancelotti però una cosa che ho paura ovviamente il PSG che è fortissimo però non è che mancarsi di fiducia per il napoli anzi noi siamo fortissimi perché hanno dimostrato molta più consapevolezza di essere fortissimi contro Liverpool e PSG però è un problema che ho che questa partita è troppo importante è quasi fondamentale per il passaggio del turno perché se perdiamo a Parigi vabbè può essere importante anche quella a Danfield però deve giocare a Danfield ora che gioca il San Paolo che ritorna Cavani mi raccomando facciamo una cosa vinciamo 5 a 3 Cavani tripletta per il PSG ma noi lo applaudiamo l'anno prossimo in Napoli per favore per favore facciamo no a ogni passaggio che fanno dobbiamo applaudire a Cavani ok vabbè comunque lasciamo queste cazzate perché io conoscendo il mio Napoli per le partite fondamentali stecchiamo sempre l'abbiamo steccato contro la Fiorentina che abbiamo vinto contro la Juventus e la partita dopo abbiamo perso 3 a 6 in caso della Fiorentina contro la Juventus e poi sticchiamo sempre nelle partite più importanti vorrei che con Ancelotti ste cose cambiassero vorrei che con Ancelotti ste cose cambiassero perché sono una partita fondamentale non so che i giocatori hanno troppa pressione hanno troppa pressione di sbagliare perché dobbiamo fare la partita perfetta e questo gli attessa Ancelotti e io non voglio che presi dall'emozione presi che ne so dopo non riusciamo a fare manco un gol non lo so ragazzi questo video è finito qui spero che Ancelotti se il momento non succeda questa cosa e anche penso che non accadrà perché Ancelotti è veramente un signore allenatore che è un signore veramente dico poco un immensa allenatore ragazzi questo video è finito qui 8 minuti di video dove l'ho detto un cazzo metti il like iscrivvi al canale noi ci vediamo al prossimo video stasera per la partita di Napoli PSG forza Napoli forza Napoli ciao gioventù